forse ce l'ho fatto forse però se non mi romperò le palle nessuno ce l'ho fatto eccola qui eccola qui no sei un puttaniere di merda bastardo io non mi fido qua guardate che ci stava un puttaniere di merda eh hai fermo non ti permettere mai più mai più ti devi permettere stai zitto brava ogni tanto qualcuno capisce qualcosa poi mi ha ferito questo grandissimo pezzo di merda lo prendo allora di qui in sbandare andiamo di qui eccola sei qualche altro con te no? questa ti infilzo questa tutta dritta nel tuo culo so prendi per mettere mai più ehi la freccia è mia ecco eeeh che cazzo prenditi inaspir ehi per mettere mai più cazzo ti viene in testo queste cose proprio boh ma lo sai cerchiamo di uscire madonna mia che nervosa ho detto non mi rompere eh anche le frecce fanno male caro mi spiace per te raga non ci sta qualche altro rompicoglioni eh che cazzo come era così non si può sopportare eh bastardo eh bastardo prendi corri 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 posso perdere a quello vado ma perché mi chiamate ora ok ragazzi scusatemi per il brusco stop del video ma mi ha chiamato Inux94 e mi ha fatto anche morire ha fatto anche la risata malefica quando l'ha sentito quindi vedete voi eh 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 no sta arrivando quell'altro che non lo sopporto nel frattempo che arriva quell'altro così eh no vado non sei morto vado dove cazzo è dovrebbe esserci quell'altro lì ui aiuto dritto in testo ok ok ragazzi il nostro obiettivo di trovare è la come cavolo si chiama la trasmittente è finita ora dobbiamo riportarla solamente da Henry sperando non sia uscito una ventina di minuti questo video insomma ma cazzo lo carico ah scusatemi questi continui i tagli ma è per non vado a uscire il video a lungo uh uh di nuovo si duola il nostro nuovo di il nostro nuovo scivolo i palazzi come si scivola sui palazzi non si scivola da nessun'altra parte ok ora dove devo andare mh ah sono già arrivato è buono ok ragazzi eccoci è arrivato da Henry guardatevi il filmatino eccoci Non è una vacanza. E se si è qui, è contro la sua volontà. Tu parla di mia mamma? Sì, signore. Ma un secondo, ok? Tu pensi che è venuto per... Quando è mia mamma tornare? Soon, signore. Il mio nuovo amico? Va andare a prenderla, ora. Non ti? Anri è vero. Mi sono tornare ora. ok ragazzi scusate per quest'altro brusco intervento di stop video ma il gioco è crashato e non vi immaginate quante parole ho cominciato a buttare stai zitto non rompe sto parlando quante parole ho cominciato a buttare per l'aria ok ragazzi allora dobbiamo andare a salvare la mamma ma questo ve lo farò vedere in un nuovo episodio quindi qui era Itamaster passo e chiudo